Un tacco molto interessante e molto importante, il tacco rock. È un tacco fatto di borchie metalliche cuneiformi, ma miscelate e incastrate con lo strass. Quindi diciamo un'incrostazione di strass e metalli insieme che creano qualcosa di veramente unico abbinato naturalmente alla pelle nera. Ma lo stesso tipo di lavorazione inserito nella Betty Page e colorato con i nostri camosci Eros, Afrodite e Iris diventa una scarpa altamente seduttiva, altamente femminile, dove il colore assume un'atmosfera molto più romantica. Diventano delle scarpe altamente seduttive e ingegneristiche.